La mafia del Brenta, un'organizzazione criminale che ha tutti i connotati delle associazioni delinquere e che ha trovato in Felice Maniero il più grosso esponente della sua storia. Abbiamo parlato questa sera con l'autrice del libro La Reesa, Monica Zarnetta, una delle più importanti giornaliste nel panorama italiano, collaboratrice di Carlo Lucarelli, nonché profonda conoscitrice della storia di Felice Maniero. Buonasera Monica. Buonasera. La prima domanda avverte essenzialmente sulla figura di Felice Maniero, un leader molto carismatico e anche, se vogliamo, narcisista, nel senso che difficilmente si è visto un capo mafia andare a colpire in prima persona le proprie vittime. Certo, un narcisista, tra l'altro un criminale che piaceva e si piaceva, un criminale che anche esteticamente si piaceva perché quando di recente si è pensato ad una possibile chirurgia estetica a cui Maniero si sarebbe sottoposto, chi lo conosceva bene invece ha negato categoricamente questo perché Maniero si amava troppo, ama i suoi lineamenti, ama il suo caschetto che l'ha reso inconfondibile e quindi sicuramente molto narciso. La peculiarità anche di aver ammazzato con le proprie mani le persone da eliminare effettivamente esiste. Maniero anche questa, poteva essere qualsiasi cosa, dicono i magistrati. Se lui avesse voluto fare lo stesso magistrato, per esempio, sarebbe stato un magistrato di alto livello. Lui, Maniero, ha scelto di diventare un criminale ed è diventato un criminale di alto livello. Proprio in considerazione della grande importanza che Maniero ha rivestito nel corso degli anni 80 e 90, ci sono stati molti punti di intreccio anche con le forze dell'ordine. Maniero aveva profondi contatti con membri del ROS, così come membri della Polizia di Stato. Quello che è mancato, infelice Maniero, forse è stato un contatto diretto con la politica. Perché? Perché Felice Maniero, giustamente, non si fidava della politica, non si fidava dei politici. E quindi Maniero ha ritenuto che la politica non fosse fondamentale per l'evoluzione della sua creatura criminale. Lui si è avvalso della collaborazione delle forze dell'ordine, di appartenenti alla magistratura, di avvocati. Ricordiamo che il suo avvocato, Enrico Vandelli, è stato condannato proprio per associazione mafiosa. Ha avuto dalla sua anche delle guardie penitenziarie, una delle quali, Raniero Orbi, è stato condannato proprio per aver favorito la sua evasione dal carcere a due palazzi. Ma intorno a questa evasione, per esempio, ci sarebbero tante, tante altre cose da dire e tante, tante altre persone che stavano molto in alto che hanno aiutato Felice Maniero. Un'altra considerazione avverte sulle similitudini che la mafia del Brenta può avere anche con altri tipi di associazioni e delinquere. Un aspetto in particolare è quello della fede. Maniero era almeno un sedicente cristiano, era perlomeno uno che aveva fatto donazioni ad istituti di stampo religioso. Un profondo punto in comune anche con le storie che abbiamo sentito della mafia siciliana. Sì, sicuramente lo aveva adottato alcuni atteggiamenti. Per quanto riguarda la fede, probabilmente era quella fede tipica del nostro Veneto. Quindi una fede che ha poco, effettivamente ha a che vedere con quella profondità che caratterizza anche le regioni del sud. Comunque sì, sicuramente c'è stata, però teniamo sempre conto che per arrivare alle proprie cose Felice Maniero si avvalso proprio di simboli religiosi importanti. Per esempio, per ottenere dallo Stato alcune cose, per esempio la fine della sorveglianza speciale per il cugino, aveva rubato il mento di Sant'Antonio dalla Basilica del Santo a Padova. Allo stesso tempo, per ricattare lo Stato su altri argomenti, non aveva esitato a sottrarre le spoglie di Santa Lucia dalla chiesa di San Geremia a Venezia. Quindi la religione sì, però anche funzionale alla propria organizzazione. Il titolo del libro è La Riesa, con anche un sottotitolo, Ascesa, Declino e Pentimento, per lo meno presunto, di Felice Maniero. La Riesa è un elemento di continuità che possiamo trovare nella vita di Felice Maniero, sia come Riesa nei confronti dello Stato, ma forse anche confronti dello Stato nei confronti di Felice Maniero. Assolutamente sì, questo è il taglio che io ho dato a questo libro. La resa di Maniero è la resa che abbiamo tutti davanti, con una scelta di iniziare una collaborazione, che per lui è stata proficua al massimo. Infatti le sue richieste sono state accolte in toto e ora Felice Maniero, che fa l'imprenditore, può godersi in tutta tranquillità quei 250-300 miliardi di lire che ha ancora con sé. Dall'altra parte però non è così celebre la resa che è stata attuata dallo Stato nei confronti di Maniero, accettando quelle richieste e consentendo che poi la storia abbia seguito questo corso. Un corso in cui il pentimento è proprio tra virgolette, in cui il rendersi conto che un criminale, un boss mafioso, perché non è che parliamo di un criminale, un banditello, un boss mafioso, oggi sia un cittadino che grazie ad una collaborazione ha potuto ottenere tutto quello che aveva conquistato con metodi illeciti, uccidendo e compiendo tantissimi reati. Grazie. Grazie.